Il gruppo giovani dell'associazione Life on the Sea festeggia il primo compleanno, un anno di attività all'insegna della solidarietà. È stato davvero grandioso il contributo di solidarietà che avete portato alle vittime della guerra in Ucraina. Siamo orgogliosi di questo, siamo orgogliosi di questo gruppo che da un anno opera sul territorio e non soltanto, perché proprio con l'inizio della guerra, un anno fa, hanno iniziato tutti insieme unendosi in diverse zone del territorio. Quindi si parla di Levanto, Spezia, Lerici. Insomma, si sono uniti, hanno formato un gruppo veramente forte, hanno partecipato all'attività di raccolta a favore delle famiglie ucraine, hanno cercato di dare alloggio a chi ne aveva bisogno, insomma, hanno supportato veramente quelle persone che ne avevano bisogno e sono stati veramente molto concreti. Poi durante l'anno hanno svolto anche tante altre attività e per loro la salvaguardia dell'ambiente, del territorio è fondamentale, lo hanno dimostrato effettuando delle attività sul territorio, proprio su Spezia, ad esempio. E la cosa più importante è che non si sono mai fermati e continueranno, perché questa è la loro intenzione. Infatti, guardando in avanti, si stanno già organizzando per questo 2003, che promette bene, promette bene sotto l'aspetto dell'organizzazione, sotto l'aspetto anche dell'inventiva, perché bisogna averci anche questo per aiutare il prossimo. E loro sono veramente in gamba su questo. Io sono soddisfatto e direi che sono orgoglioso proprio di questo gruppo, perché sono dei ragazzi bravissimi, hanno iniziativa, volontà e ci mettono veramente il cuore su tutto quello che fanno. Un'associazione che sta crescendo, le porte sono aperte a chiunque voglia parteciparsi e unirsi alle vostre attività. Ecco sì, questa è l'occasione, l'opportunità proprio per fare un annuncio a favore di tutte quelle persone che amano collaborare, intervenire e soprattutto essere presenti quando si tratta di solidarietà. Noi adesso, proprio quest'anno, cercheremo di ampliare quelle che sono le adesioni alla nostra associazione, quindi sicuramente un'associazione aperta a tutti. Noi abbiamo bisogno di tutti e di tutto per aiutare il prossimo. Il nostro motto è aiutaci ad aiutare e noi siamo pronti a farlo. Quindi chi volesse iscriversi alla nostra associazione può sicuramente contattarci. I modi sono semplicissimi, abbiamo un contatto telefonico della nostra associazione, abbiamo un sito www.lifeondesionolus.it oppure ci troverete semplicemente su Facebook con le nostre pagine. I nostri giovani sanno come farsi veramente trovare perché sono bravissimi sui social e quindi avete l'opportunità di poter partecipare alle nostre attività. Noi vi aspettiamo e siamo orgogliosi di ospitarvi e di fare attività insieme a voi.